Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, di non aver fatto il ponte. Introduciamo oggi un nuovo argomento, quello sui grafi. I grafi sono una struttura dati un pochino più complessa rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora. Fino ad ora abbiamo visto fondamentalmente due tipi di oggetti matematici, che sono gli insiemi e le sequenze, che poi in Java sono rappresentati in diversi modi. In particolare abbiamo visto gli array, sia come liste che come array. Abbiamo visto le mappe, abbiamo visto i set, gli hash set, eccetera. Oggi vediamo i grafi. I grafi sono una struttura dati che permettono di mettere in relazione gli oggetti tra loro. E sono una struttura dati estremamente importante per affrontare problemi reali. Infatti vedremo che un sacco di problemi possono essere ridotti, possono essere ricondotti ad una rappresentazione abbastanza su grafi. Quindi, nella prima ora, oggi ci occuperemo di vedere un po' quali sono le varie definizioni dei grafi, quali sono i vari tipi. E poi successivamente, nella seconda ora, invece, vedremo l'implementazione, come implementarla in Java utilizzando una libreria jgraph.t. Quindi, iniziamo con cos'è un grafo. Un grafo è semplicemente una collezione di punti e linee, dove le linee connettono alcune coppie di punti. Dico alcune perché il grafo potrebbe non essere completo, quindi potrebbe non avere tutti i collegamenti possibili, ma soltanto alcuni. Chiameremo questi punti comunemente vertici o nodi del grafo, mentre gli archi vengono, mentre le linee le chiameremo archi. Gli archi, appunto, collegano due punti, due nodi del grafo. In inglese si utilizza la parola vertex o node, per indicare un vertice o un nodo del grafo. Invece si utilizza la parola edge, arc, o line, per indicare gli archi. Vediamo da questa vignetta che in differenti campi delle scienze esistono delle rappresentazioni che sono riconducibili ai grafi. Questo è molto interessante perché, come dicevo prima, tanti problemi pratici poi verranno ricondotti a questa struttura dati. Un esempio è quello della chimica, dove può essere rappresentata la struttura di una molecola. Un esempio molto attuale è quello dei social network, dove ogni persona, ogni nodo che interagisce sulla rete può essere rappresentato come un nodo del grafo e gli archi sono l'interazione tra questi utenti sulla rete, nella biologia e poi nella matematica. Quindi in ogni scienza possiamo trovare un'applicazione. Attenzione però all'utilizzo della parola inglese graph, perché mentre in italiano la parola grafo è abbastanza un significato univoco, in inglese è un po' differente, perché con il termine graph si intende sia il plot, quindi il grafico di una funzione, quello che generalmente chiamano plot, però si intende anche il grafo di Excel, quello che in italiano viene chiamato il diagramma, diagramma a barre, a torte, eccetera. E poi si intende ovviamente anche quello che noi chiamiamo grafo, quindi una collezione di vertici e archi. Quindi questo è utile soltanto saperlo quando cerchiamo su internet, perché tipicamente a volte facciamo delle ricerche su internet in inglese, e quindi se utilizziamo semplicemente la parola graph, cercando Java graph, magari potremmo ottenere delle soluzioni che non sono quelle che ci aspettiamo. La teoria dei graffi è abbastanza recente, possiamo dire che risale all'ultimo secolo, in particolare è stata studiata in modo sistematico a partire dal 1930, da un signore di nome Koenig. Ma esistono dei problemi, da sempre, che sono riconducibili poi a problemi risolti con la teoria dei graffi. E uno dei più famosi, anche più carini da raccontare, è quello dei Sette Ponti di Koenigsberg, che è un problema di cui è abbastanza antico, ed è stata fornita una dimostrazione per questo specifico problema, già da Eulero nel 1700. Però Eulero aveva dato la dimostrazione per questo specifico problema, non aveva teorizzato nulla riguardo i graffi. Poi si è visto che invece, riconducendo questo problema alla teoria dei graffi, era molto più semplice da risolvere. E così è avvenuto per tanti altri problemi pratici. Cosa dice il problema dei Sette Ponti? Esiste una cittadina, un tempo chiamata Koenigsberg, oggi si chiama Kaliningrad, che si trova in Russia, sul Mal Baltico. Questa cittadina, in questa cittadina, sfocia un fiume, il fiume Preger, e genera due isolette. Nel tempo, nei vari anni, sono stati costruiti diversi ponti per collegare queste due isolette con la terraferma. In particolare sono stati costruiti sette ponti, e qui vediamo una rappresentazione. Questa è un'isola, e questa è un'altra porzione di isola. Invece la parte in alto e la parte in basso rappresentano la terraferma, e la parte in grigio, il fiume. Come vediamo, sono stati costruiti questi sette ponti. Quattro di collegamento tra la prima isola e la terraferma, due di collegamento tra la seconda isola e la terraferma, e poi uno di collegamento tra le varie isole. E il problema consisteva, quello che ci si raccontava nei salotti del 1700 era è possibile effettuare un cammino per cui partendo da uno specifico punto attraversare tutti i sette ponti una ed una sola volta e ritornare nello stesso punto di partenza? Quindi creare un ciclo, un percorso chiuso. Beh, sono stati fatti diversi. All'epoca si raccontava e venivano proposte soluzioni, e si raccontava anche che nel 1700 i nobili, o comunque i benestanti della città camminassero per questi sette ponti cercando una soluzione. In realtà poi Eulero ha dimostrato che non esiste una soluzione perché il motivo è legato al numero di ponti. Se ci fosse un ponte in meno o un ponte in più il problema sarebbe risolvibile. Ma con questo specifico numero di ponti non è risolvibile, non esiste un ciclo per cui partendo e ritornando nello stesso posto è possibile attraversare una ed una sola volta tutti i ponti. A meno di trovare soluzioni delle più disparate tra cui, come direbbe un ingegnere, costruiamo un nuovo ponte, come direbbe il biologo Miclono, il fisico invece si trasporterebbe e lo sfatatore di miti invece semplicemente distruggerebbe un ponte. Tutte queste soluzioni permetterebbero di completare il ciclo ma senza aggiungere un nuovo ponte o togliendone uno non è possibile. Adentriamoci un pochino nella teoria dei grafi cercare di capire più nel dettaglio di cosa si tratta. Quando parliamo di grafi in realtà parliamo di una famiglia di strutture dati che sono tutte riconducibili ad una rappresentazione simile ma all'interno di questa famiglia ci sono diverse tipologie. In particolare il primo che andiamo a analizzare è il grafo semplice. Nel grafo semplice che è la versione più semplice di tutti i grafi abbiamo dei nodi che sono collegati da degli archi ma al più questi nodi sono collegati da un arco. Mentre nella versione multigrafo tra ogni coppia di nodi possono esserci più archi. Quindi se questi nodi possono essere collegati da più archi. Esiste poi anche la possibilità che un arco colleghi lo stesso nodo e in questo caso si parla di loop o cappio perché nulla ci vieta che un arco possa avere il vertice di origine e di arrivo uguale. Infine si parla di pseudografi se ci sono dei multigrafi con dei loop. Se abbiamo un multigrafo quindi abbiamo più archi tra la stessa coppia di vertici e in più abbiamo dei loop. Un'altra distinzione che possiamo fare riguarda la direzione degli archi perché l'arco è una linea che collega una coppia di vertici ma quest'arco potrebbe essere orientato o non orientato. La versione più semplice è quella undirected quindi non direzionata direzionata e poi invece abbiamo la versione orientata. Orientato significa che l'arco ha una direzione quindi va da un vertice ad un altro vertice va da un nodo ad un altro nodo. Invece si parla di diretto se gli archi possono avere una o due direzioni. Quindi può non esistere ovviamente un arco ma se un arco esiste questo può avere una o due direzioni. Il grafo orientato è una sottocategoria del diretto perché a differenza del diretto può avere una sola direzione e è possibile se avete domande ovviamente fermatemi pure è possibile che è possibile assegnare delle etichette ai vari archi o nodi del grafo questo perché assegnare un'etichetta significa assegnare un identificatore univoco quindi se vogliamo identificare in modo univoco un arco o un nodo è possibile assegnare un'etichetta questo ci verrà particolarmente utile nell'assegnare delle etichette ai nodi perché abbiamo un modo univoco per chiamarli anche in Java parleremo di nodo se assegniamo dei numeri interi parleremo di nodo 1 2 3 4 perché altrimenti ci viene difficile identificare il nodo singolo un problema diverso invece è quello di assegnare dei colori assegnare dei colori significa assegnare ciascun nodo ciascun arco ad un gruppo quindi tutti i nodi colorati nello stesso modo porteranno nello stesso gruppo in particolare quando si parla di colorazione vogliamo rispettare alcune proprietà vorremmo che due vertici vicini due nodi vicini non abbiano lo stesso colore e lo stesso per gli archi e fate attenzione perché il problema del coloramento dei grafi è un problema a lungo studiato di cui adesso poi esiste una soluzione che è nota come il teorema dei quattro colori prima era nota come congiottura fino a quando non è stata dimostrata poi è stata dimostrata e la congiottura dei quattro colori dice quanti nella congiottura dei quattro colori ci si chiede quanti so qual è il numero minimo di colori necessario per colorare una qualsiasi cartina geografica una qualsiasi possibile cartina geografica del mondo con quanti colori può essere colorata beh si pensava fossero quattro questo l'ho dimostrato in realtà è stato un problema veramente difficile dimostrare tant'è che l'unica dimostrazione è stata una dimostrazione esaustiva ossia tutte le pari combinazioni sono state ridotte ad una serie ad qualche migliaia di casi e poi sono state dimostrate computazionalmente in modo esaustivo utilizzando un calcolatore o un computer quindi si è dovuto aspettare l'avvento dei computer per riuscire a dimostrare completamente il problema comunque con quattro colori potete colorare qualsiasi cartina del mondo qualsiasi città o stato poi parliamo come abbiamo detto prima abbiamo parlato di grafi diretti una definizione un pochino più matematica è la seguente quindi un grafo diretto G è una coppia di vertici e archi dove V che si identifica come V virgola E dove V è un set finito di vertici E è un set finito di archi in particolare E è un sotto insieme del prodotto cartesiano dei vertici il prodotto cartesiano non è commutativo permette di generare tutte le coppie possibili tra i vertici quindi con questa definizione abbiamo possiamo dicendo che un sotto insieme di tutte le coppie possibili vuol dire che generiamo un grafo in cui un arco può esistere o meno se esiste è direzionato ed esistono anche degli archi che partono e arrivano nello stesso vertice e questo è un esempio questo grafo è costituito da due parti e in particolare abbiamo i primi 1, 2, 4 e 5 questi nodi sono collegati tra loro e poi abbiamo un'altra parte che sono i nodi 6 e 3 che sono tra loro connessi ma tra le due parzioni non c'è collegamento sul nodo 2 vediamo che esiste un cappio e tra 4 e 5 vediamo che ci sono due collegamenti quindi questo potremmo vederlo come un multigrafo orientato perché ci sono più archi che collegano la stessa coppia di nodi e hanno una sola direzione a patto che la freccina su 4 sia quella del la freccina che entra in 4 sia quella che va che è relativa all'arco 2 e 4 altrimenti sarebbe un multigrafo diretto in questa slide possiamo identificare un loop e se volessimo visualizzarlo se volessimo stamparlo questa è la stessa rappresentazione che poi vedremo in Java quando stampiamo un grafo diretto vediamo che c'è v che è un insieme quindi quando si rappresenta con le parentesi quando c'è una rappresentazione con le parentesi graffe si intende un insieme abbiamo un insieme di nodi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi abbiamo un insieme di coppie di archi fate attenzione perché nell'insieme degli archi non si utilizza più per identificare ciascun arco la parentesi graffa non è più un insieme ma è un arco direzionato un arco orientato che va da 1 a 2 da 2 a 2 invece diversamente se ci fosse stata la parentesi graffa avrebbe identificato un arco non orientato invece un grafo non direzionato undirected è ancora rappresentato come una coppia di vertici e archi ma questa volta gli archi è un insieme di coppie non ordinate di vertici in realtà questa questa immagine non è corretta perché c'è un arco orientato però considero a parte quest'arco qua tutti tutto il resto del grafo è un grafo non orientato e questa è la rappresentazione di nuovo qui c'è un altro errore perché avrei preferito che ci fossero le graffe ad indicare le varie coppie di archi come ci sono in Java però si vede che riportandolo poi sulle slide c'è stato un errore di scrittura in questo caso sarebbe meglio rappresentare le varie coppie di vertici che costituiscono i vari archi con delle graffe piuttosto che con delle prentesi tonne in modo tale da differenziare il caso di archi orientati con quello non orientato esiste poi un concetto di adiacenza o incidenza quindi per identificare la vicinanza tra i vari vertici adiacenza tra i vari vertici quindi si parla di arco che un arco incide su un vertice se è collegato a questi nodi se collega a questi nodi quindi l'arco che collega 1 e 5 è un arco adiacente o incidente sui nodi 1 e 5 e allo stesso modo si parla di adiacenza per i vertici quindi il vertice 5 è adiacente ai vertici 1 e 2 nel caso in cui un nodo non abbia collegamenti e non abbia archi si parla di vertice isolato nodo isolato allora un'altra proprietà importante è quella del grado il grado di un grafo è il numero di vertici adiacenti oppure alternativamente il numero di archi il numero di archi che incidenti su quel nodo perché in un grafo non direzionato in realtà è meglio parlare di archi il numero di archi incidenti il grado di un nodo in un grafo non direzionato è il numero di archi incidenti mentre in un grafo diretto il grado di un grafo può essere distinto in in degree out degree e degree in degree è la somma del numero di archi uscenti quindi con direzione uscente rispetto al nodo considerato in degree è la somma degli archi entranti out degree è la somma degli archi uscenti degree è la somma degli archi entranti e uscenti se un vertice ha grado zero vuol dire che è isolato quindi nell'esempio di prima vertice zero vertice quattro è isolato perché non ha archi né uscenti né entranti in questo caso è un grafo non orientato e quindi semplicemente si guarda il numero di archi incidenti su quel nodo in questo esempio abbiamo un grafo non orientato il nodo 1 a grado 2 perché abbiamo due archi uscenti il nodo 2 a grado 2 il nodo 5 a grado 2 il nodo 4 a grado 0 quindi isolato 3 e 6 a grado 1 nel caso di un grafo orientato lo stesso discorso semplicemente si distingue tra uscenti e entranti quindi il nodo 1 ha un arco uscente e un arco entrante quindi si parla di indigree 1 o indigree 1 nel caso di un nodo con cappio il conteggio dipende se consideriamo il cappio o meno se non lo consideriamo in questo caso abbiamo un indigree pari a 1 e un indigree pari a 2 se invece consideriamo il cappio abbiamo un indigree pari a 2 e un adigree pari a 3 comunque la definizione è molto semplice poi parliamo di path di cammino cos'è un cammino? il cammino è una sequenza di nodi una sequenza differisce perché nella sequenza abbiamo il concetto di predecessore e di successore quindi un cammino è semplicemente una sequenza di nodi che collegano due vertici del grafo e questo viene identificato generalmente dagli archi che devono essere seguiti per collegare i vari nodi infatti vi sono i vertici queste sono le coppie di vertici che identificano gli archi e se parliamo di un cammino semplice i nodi non sono ripetuti quindi vuol dire che se un cammino è semplice non ripasso per lo stesso nodo se sono già passato una volta non ripasso per quello e la lunghezza di un cammino si calcola come il numero di archi attraversati che è uguale nel caso di un cammino semplice uguale al numero di nodi meno uno in realtà non è soltanto nel caso di un cammino semplice ma in tutti i casi perché la lunghezza di un cammino si conteggia sempre sul numero di archi questo fa sì che se il cammino non fosse semplice evito di conteggiare lo stesso nodo su cui ripasso più di una volta anche perché sarebbe difficile poi da definire la lunghezza esiste poi collegato al concetto di cammino il concetto di raggiungibilità e di stability cosa significa raggiungibilità? significa che se esiste un cammino tra un vertice A e un vertice B possiamo dire che B è raggiungibile da A definizione molto semplice quindi se esiste un cammino tra due vertici possiamo dire che possiamo raggiungere il primo vertice a partire dal secondo quindi in questo caso sempre lo stesso esempio di grafo non orientato abbiamo un cammino 1,2,5 che che collega i vertici 1,2 e 5 di lunghezza lunghezza 2 lunghezza 2 perché consideriamo il numero di archi 1 e 2 essendo questo un cammino semplice perché non ritorniamo sullo stesso nodo di partenza non ritorniamo due volte sullo stesso nodo il numero la lunghezza del cammino è pari al numero dei vertici meno 1 quindi 3 meno 1 2 una versione particolare di cammino è il ciclo si ha un ciclo quando il cammino ha come vertice di partenza e quello finale lo stesso vertice lo stesso nodo quindi quando coincidono quando da dove parto arrivo infatti quello che cercavo nei sette ponti era un ciclo volevo partire nel problema dei sette ponti volevo partire da un qualsiasi punto della città e ritornare a quel punto attraversando i sette ponti quindi quello che cercavo è un ciclo se il grafo non ha cicli si parla di grafo aciclico quindi senza cicli questo sempre lo stesso grafo di primo non orientato è un esempio di ciclo perché il cammino 1 2 5 1 è un cammino che ha come vertice di partenza come vertice di arrivo lo stesso vertice quindi coincidono la lunghezza è 3 come dicevo prima la lunghezza si conta sugli archi e non sui vertici poi sempre legato al concetto di raggiungibilità diciamo che un grafo non direzionato è connesso se per ogni coppia di vertici esiste un cammino che li collega quindi diciamo che è connesso se per ogni coppia di vertici sappiamo che sono collegati in qualche modo se esiste un cammino e nel caso in cui ci siano più componenti connesse ci sono dei casi in cui all'interno di un grafo possiamo identificare più componenti connesse e la componente connessa viene definita come il sottografo di dimensione massima connesso che ha componenti connesse un grafo connesso ha esattamente una componente connessa quindi la connessione un grafo si dice connesso se per ogni coppia di vertici esiste un cammino che li collega un grafo connesso se è una sola componente connessa esistono dei grafi in cui ci sono più componenti connesse e in questo caso ovviamente il grafo non è più connesso nello stesso esempio identifichiamo di prima tre componenti connesse perché cioè quella del ciclo quella che abbiamo questo ciclo il fatto che ci sia un ciclo vuol dire che tutti sono connessi con tutti in questo caso uno, due, cinque sono connesse tra di loro quattro è un vertice isolato quindi per definizione costituisce una componente connessa a sé stante e tre e sei sono un'altra componente connessa semplice ma componente connessa si parla di connessione di grafo connesso per i grafi non orientati se invece parliamo di grafi orientati diretti parliamo di fortemente connesso quindi un grafo orientato diretto è fortemente connesso se per ogni coppia ordinata di vertici esiste un cammino che connette i due vertici un cammino orientato però questo è un esempio di grafo fortemente connesso perché da uno posso andare a due posso andare a cinque posso andare a quattro lo stesso da due posso andare a quattro posso andare a uno posso andare a cinque da quattro posso andare a cinque posso andare a uno e posso andare a due perché passo da 1. Come vedete è molto più semplice vedere le componenti connesse, vedere comunque un grafo connesso se non è orientato, mentre se un grafo è orientato è più difficile verificare la proprietà di fortemente connesso. Se un grafo è orientato non si parla mai di connesso, ma si parla sempre di fortemente connesso. Questo invece è un esempio di grafo che non è fortemente connesso perché ad esempio da 4 non posso raggiungere 1, in questo caso non posso raggiungere neanche 2, neanche 5 perché come si vede ha soltanto archi entranti, quindi ha un out degree pari a 0. Avere un out degree maggiore di 0 è una condizione necessaria ma non sufficiente perché la proprietà di fortemente connesso sia verificata. Esistono dei casi in cui è utile avere un grafo completo. Un grafo completo è una rappresentazione in cui esiste un arco che collega tutte le coppie possibili di vertici. Vediamo quindi alcuni esempi, ci sono due nodi, è molto semplice, ci sono tre, si fanno un triangolo, ci sono quattro, abbiamo questa struttura, ci sono sette, è molto più complicata. Perché è utile avere questa struttura? Perché permette di risolvere alcuni problemi pratici. un esempio, non so se lo ricordate, ma sulle cartine stradali al fondo dove c'è la leggenda viene riportata una matrice con le distanze tra le principali città. Così ha solo scopo informativo. E quindi per ogni città, per ogni principale città italiana veniva riportata la distanza. E questo è un esempio di grafo completo. Infatti la rappresentazione matriciale vedremo poi in una delle successive lezioni come è una delle possibili rappresentazioni di un grafo. Nella programmazione poi sono due, la lista e la matrice, si utilizza una o l'altra a seconda della densità del grafo. E avere un grafo completo, quindi una rappresentazione matriciale, è utile per risolvere alcuni problemi in cui è necessario avere la conoscenza di tutti, è necessario avere un arco che collega un nodo con tutti quanti gli altri nodi del grafo. Esistono delle formulette che ci dicono quanti sono gli archi se il grafo è completo. Se il grafo è completo ed è diretto il numero degli archi è pari a n per n-1 perché ogni nodo è collegato con tutti i suoi vicini. Se il grafo invece è non diretto è pari a n per n-1 diviso 2 perché ovviamente non ho bisogno della doppia connessione. Se ammette self-loop, quindi se ammette dei cappi, il numero di archi è n quadro per grafi diretti e n per n-1 per grafi non diretti. non è necessario che ve le ricordiate però se per caso in qualche problema venisse richiesto il numero degli archi per diverse tipologie di grafo sapete che sulla slide li trovate. Una formula importante invece è quella della densità. La densità di un grafo si definisce come il rapporto tra il numero di archi del grafo e il numero di archi se il grafo fosse completo con lo stesso numero di vertici. Quindi quanto differisce il grafo dalla sua versione completa? Il grafo attuale quanto differisce dalla sua versione completa? La densità sarà più vicina a 1 se avranno lo stesso numero di archi. Cioè se tanto più un grafo assomiglia a un grafo completo la densità sarà vicina a 1. È importante sapere la densità perché ci permette di... perché adesso noi no perché non incrementeremo mai un grafo da 0 utilizzeremo sempre una libreria ma se dovessimo costruire un grafo partendo da 0 quindi scegliere la rappresentazione più corretta la valutazione sulla densità è importante perché ci permette di utilizzare la struttura dati sottostante più corretta. Questo esempio è un grafo con densità pari a 0,5 quindi a un mezzo perché ci sono 3 archi sui 6 possibili totali. Esiste poi un particolare tipo di grafo chiamato albero e foresta. Allora un grafo non direzionato e aciclico, non direzionato quindi non esiste una direzione sugli archi, aciclico vuol dire che non esistono dei cicli quindi dei cammini chiusi. In questo caso si parla di foresta. Quindi se un grafo non direzionato è aciclico parliamo di foresta. Se in più è anche connesso parliamo di albero. Quindi abbiamo alcuni esempi. Il primo è un albero perché è connesso. Il secondo è un albero, il terzo è un albero, il quarto è una foresta perché abbiamo due componenti connesse. Il quinto è una foresta e il sesto di nuovo una foresta. I presi singolarmente sono degli alberi. Se però consideriamo il 6, quindi la totalità di questi 6 alberi diventano una foresta. Ciascuno un albero ma presi insieme sono una foresta perché non è connesso. Cosa facciamo a connetterli? Dovremmo collegare degli archi, un arco tra ciascuno di essi. quindi se collegassimo questo con questo, questo con questo, questi due otterremmo poi un albero. Perché un albero, e questo è un esempio, è un grafo che ha il numero minimo di collegamenti per tenere tutto insieme. Infatti se noi togliamo un qualsiasi arco tra una coppia di nodi all'interno di un albero, perdiamo la proprietà di connessione, quindi non è più connesso. Se invece ne aggiungiamo uno, creiamo un ciclo. Infatti se ne togliamo uno, in questo caso ne abbiamo tolto due, diventa una foresta. Se ne aggiungiamo uno, diventa un ciclo. Quindi l'albero è una struttura di dati molto interessante perché un albero è un grafo con il numero minimo di archi per tenere tutto insieme. Il termine albero non è, è un po' diverso da quello che utilizziamo comunemente perché manca un senso di ordinamento, manca, tipicamente quando parliamo di una struttura d'albero, pensiamo di una struttura gerarchica. Invece nell'albero dei grafi manca questo ordinamento. È possibile però inserire una sorta di ordinamento, quindi una sorta di gerarchia all'interno di questo albero se scegliamo un nodo come nodo root, come nodo radice. Questo nodo radice può essere scelto tra qualsiasi dei nodi dell'albero, può essere uno solo ovviamente. e introdurre un nodo radice permette di introdurre all'interno del grafo, all'interno del nostro grafo, un ordine tra i nodi, un ordinamento. Ora, se consideriamo il nodo radice avremmo dei figli e dei padri. I figli sono i nodi più lontani dal nodo radice. Dato un particolare nodo all'interno dell'albero, questo nodo è figlio rispetto ai nodi predecessori ed è padre rispetto ai nodi successivi. In particolare poi ci sono nell'albero tre tipi di nodi, cioè il nodo radice, nodi foglie e poi c'è il nodo semplice. Il nodo semplice è un qualsiasi nodo all'interno dell'albero. Il nodo radice è il nodo padre e i nodi foglie sono quelli che non hanno figli. In modo molto pratico, quando scegliamo un nodo radice è come se pizzicassimo l'albero in quel punto e poi tirassimo su la struttura. Quello che succede è che creiamo appunto una gerarchia. I nodi di foglia sono quelli senza figli. Questo è un esempio di albero in cui abbiamo selezionato il nodo radice. La selezione di questo nodo radice ha introdotto un ordinamento. L'ordinamento è da intendersi non come arco orientato, ma come il verso del cammino che dobbiamo percorrere se vogliamo andare dal nodo radice verso il nodo foglia. Questo è un nodo foglia. Se vogliamo arrivare qui dobbiamo percorrere questa direzione, questo cammino. La scelta di un nodo diverso introduce un diverso ordinamento, quindi bisogna seguire un diverso cammino per raggiungere i nodi di foglia. Ultima versione possibile dei grafi sono i grafi pesati. I grafi pesati sono dei grafi in cui è possibile assegnare a ciascun arco un peso. Assegnare un peso ai vari archi è estremamente importante nei problemi pratici, nei problemi di utilità pratica, nei casi reali, perché nei casi reali pensiamo ad esempio ai problemi di trasporto. Se consideriamo i vari nodi del grafo come le città e gli archi rappresentano dei voli aerei, potremmo rappresentare il costo del volo o la distanza del volo. Quindi assegniamo un peso al grafo. E questo è estremamente importante perché ci permette di trovare poi qual è il cammino migliore, ad esempio, che collega due nodi, il cammino minimo. Comunque ci permette di fare tutta una serie di considerazioni, ci permette di sviluppare degli algoritmi che poi nel prossimo settimana vedremo. Come ho detto, i graffi sono estremamente importanti perché trovano applicazione nei campi più disparati. I graffi sono una famiglia di oggetti matematici e poi a ciascun problema si applica una variante, si applica un grafo con una natura differente. Facciamo alcuni esempi. Facebook. Facebook non è nient'altro che un insieme di grafi. Esiste il grafo degli amici, esiste il grafo delle condivisioni. Esempi, il grafo degli amici, che tipo di grafo è? È un grafo, direi, semplice perché l'amicizia, una volta definita un'amicizia, non è necessario definire più archi tra la stessa coppia di persone. I nodi ovviamente sono le persone, l'arco identifica l'amicizia, è un grafo semplice. Poi pesato? No, direi no, perché non credo che le amicizie siano pesate, tutte valgono uguali. E non è orientato, non è orientato perché una volta stabilita un'amicizia, indipendentemente da chi la chieda, poi si diventa amici in entrambi i sensi. Ci sono altri social network, come vorrebbe dire Google+, dove invece il concetto di amicizia è orientato, se non sbaglio. È connesso? Direi di no, perché ci potrebbero essere dieci amici che decidono di diventare amici solo tra di loro e non essere connessi con il resto del grafo di Facebook e quindi quello che posso dire, quello che immagino è che il grafo di Facebook sarà per lo più, il grosso grafo di Facebook sarà per lo più connesso, ma ci saranno delle componenti, probabilmente ci saranno delle componenti non connesse. Poi un altro esempio è quello dei gironi del calcio, un altro esempio è quello dell'indicizzazione dei motori di ricerca. Ad esempio Google, come funziona? Google è stato fondato da Larry Page e Sergey Brin e loro prima di fondare Google avevano iniziato il dottorato a Stanford e in uno degli articoli pubblicati spiegano come Google funziona. A differenza di tutti gli altri metodi di indicizzazione delle pagine web dell'epoca che si basavano esclusivamente sul contenuto, quindi quando cercavi una parola venivano date le pagine che erano legate, che avevano un contenuto legato a quello delle parole cercate, Google per lo meno inizialmente si basava su un grafo dove le varie pagine web erano in odio del grafo e il collegamento rappresentava la presenza di un link che collegava le due pagine web, quindi se una pagina web citava un'altra pagina web esisteva un arco su questo grafo. Poi loro avevano sviluppato un algoritmo ricorsivo per cui l'importanza di una pagina web era data dal suo contenuto, ma anche dall'importanza delle pagine web a fianco collegate dai vari link. È ricorsivo perché non posso definire l'importanza di una pagina web, quindi il suo ranking, fino a quando non è definito quella dei vicini. Al momento questo problema è semplice da risolvere se ho dieci pagine web, quando ne ho svariati migliaia di miliardi comincia ad essere un problemino da risolvere. Poi un altro esempio è quello di web analytics, di cui dovrebbe esserci un esempio successivo, quindi vedere qual è la struttura del sito, come i visitatori si muovono sul sito, quindi questo per sviluppare poi delle campagne di marketing mirate. Oppure la navigazione in macchina con il GPS potrei rappresentare una città come una città e un grosso grafo, dove ogni incrocio rappresenta un nodo del grafo e le strade, i collegamenti tra gli incroci sono gli archi. In questo caso vediamo un po' che tipo di grafo è. Ora direi, non è un grafo semplice ma è un multigrafo, perché se ad esempio pensiamo a Torino, per come è fatto ci sono i viali e i controviali. Quindi tra due incroci abbiamo diversi archi, per lo meno nei corsi abbiamo due tipi di archi, ci sono gli archi che identificano i controviali e i viali. Poi è orientato, perché abbiamo i sensi unici. È un grafo possibilmente pesato se vogliamo implementare il costo legato al traffico. Ed è connesso? Dipende da cosa consideriamo. Se consideriamo una città, direi di sì. Se consideriamo la mappa della cartina stradale italiana, forse no, perché la Sardegna non è collegata con il resto della terraferma, neanche la Sicilia. In ultimo abbiamo il market matching, ma vediamo un esempio successivo. Esempio del market matching. Questo è un esempio di grafo bipartito. Bipartito non l'ho definito prima, lo definisco adesso. È un esempio in cui nel grafo bipartito abbiamo i vertici che appartengono a due insiemi. Immaginiamo che questo grafo sia relativo, abbiamo da una parte l'acquirente e da una parte le case. Quindi un arco, mentre il nodo identifica due tipi di insieme, quindi bipartito per questo motivo, perché ci sono due insiemi sui vertici, l'arco identifica l'interesse di un acquirente verso una particolare casa. Ed è bipartito perché un arco collega sempre un tipo di nodo con l'altro tipo. Quindi collega sempre un acquirente con una casa, mai due acquirenti. Immaginiamo di essere un agente immobiliare, crea un grafo di questo tipo, quindi ho quattro acquirenti, quattro immobili. Cosa vorrei cercare di fare? Ho due problemi fondamentalmente. Uno, massimizzare la soddisfazione degli acquirenti nel comprare l'immobile desiderato. Questa è una possibilità. Ma se sono un bravo agente immobiliare è quello che voglio massimizzare il profitto. Quindi quello che potrei cercare di fare è trovare le connessioni che permettono di massimizzare il profitto in modo tale che tutti gli acquirenti comprano tutte le case ma massimizzando il profitto, quindi scegliendo gli archi opportuni. Una variante, come qua c'è scritto, è considerare invece una penalità per le case non vendute. Questo è un esempio preso da un articolo pubblicato tempo fa. In questo caso abbiamo invece una serie di acquedotti che collegano diversi punti, in questo caso è un campo agricolo, comunque diversi punti, potrebbe essere una città. Quello che vogliamo fare è creare quello che si chiama trovare il minimum spanning tree, ossia ricavare da questo grafo un albero, perché non siamo interessati nella ridondanza, vogliamo semplicemente collegare ciascun punto acqua tra di loro al costo minore. Quindi su questo grafo ci sono dei pesi, che sono identificati da questi numeri, non si leggono bene, comunque ci sono dei numeri su questo grafo, identificano i pesi del collegamento. Cerchiamo il minimum spanning tree, ossia cerchiamo di cavare un albero da questo grafo. Abbiamo detto che l'albero cos'è? È un grafo non orientato, aciclico, connesso, connesso quindi deve connettere tutti i vari nodi, tutti i punti acqua e al minimo costo. Questo è un esempio di quello che dicevo prima, Google Analytics, ossia una rappresentazione della visualizzazione delle pagine web. Questa è l'analisi di un sito, qui sulla sinistra dovrebbero esserci le sorgenti, ossia da dove arrivano gli utenti. In modo diretto arrivano attraverso la ricerca su Google, arrivano tramite la ricerca su Facebook o da altri sorgenti. E poi i collegamenti, quindi diciamo il nodo rappresenta le diverse tappe della visita dell'utente. Invece l'arco rappresenta l'evoluzione, cioè il collegamento tra una tappa successiva. Quindi diciamo che l'utente ha inserito l'indirizzo web, prima tappa, seconda tappa, è andato nella pagina index.php. Il rosso significa qui ha terminato la visita. Questo è interessante perché, ad esempio, studiando questo grafo si capisce dove bisogna fare marketing. Quindi guardo le sorgenti, se sono arrivati in modo diretto non posso farci molto, però se sono arrivati nella maggioranza tramite Google posso, ad esempio, investire nella ricerca su Google. Poi, se devo sviluppare un nuovo sito web, guardo le varie interazioni tra le pagine. Se vedo che una pagina è un punto morto, cioè da quella pagina non vanno più avanti, posso cercare di capire se ha senso collegare quella pagina ad altre pagine. Comunque posso fare tutta una serie di ragionamenti che sono utili sia per le campagne pubblicitarie sia per il nuovo sviluppo di siti. Un altro è quello di rappresentare quella che potrebbe essere una macchina stati oppure un control flow graph. Comunque, ogni problema, tantissimi problemi hanno una loro rappresentazione in un grafo. Quello delle strade l'abbiamo già detto, in questo caso consideriamo semplicemente le città, direi, forse anche gli incroci, ma direi le città come punti e poi cerchiamo di collegare le varie città con le diverse tratte. E se cerchiamo un ciclo all'interno di questo, che tocchi i vari punti, risolviamo il problema del TSP, Traveling Salesment Problem, che è quello di trovare il ciclo a minor costo che colleghi le diverse città. Tipicamente noi, nei nostri problemi, non utilizzeremo mai le cartine stradali perché sono parecchio complicate, dato il numero di incroci di possibili strade, invece ci concentreremo su delle rappresentazioni un pochino più semplici, come esempio quella della mappa dei treni della metropolitana, dove consideriamo le diverse stazioni, le linee che collegano le diverse stazioni. Un altro esempio è nella chimica, possiamo rappresentare i vari collegamenti tra le molecole, all'interno delle molecole. E questo invece è una rappresentazione di parecchi anni fa, di una possibile rappresentazione del grafo di Facebook. Quindi vedete che già all'epoca era super complicato, super intricato, immaginate adesso com'è. Infine, un'altra possibilità è quella di utilizzare i grafi per rappresentare il flowchart. Quindi insomma, i grafi possono essere utilizzati in moltissime applicazioni, basta tanto scegliere la versione più opportuna. Avete delle domande su questa parte? Se non avete domande possiamo vedere come utilizzare questi grafi nella pratica. Come per tutto in questo corso utilizziamo delle librerie. Perché è utile utilizzare le librerie? Dovrebbe essere abbastanza chiaro perché ci permette di sfruttare l'implementazione di qualcun altro che è funzionante, controllata, eccetera, controllata, eccetera, e concentrarci direttamente sul problema. Quindi un consiglio anche nella vostra vita lavorativa, se mai dovrete creare un programma, a meno che il programma non sia banale, cercate sempre se qualcun altro ha già provato a risolvere il problema che state cercando di risolvere. Quindi cercate delle librerie. Poi ovviamente esiste un grado di affidabilità legato a ciascuna libreria, non è che qualsiasi cosa che è pubblicata su GitHub sia pronta all'uso. Però ci sono dei progetti come quello di JgraphT, che sono invece abbastanza conosciuti e noti e sviluppati, che ha senso utilizzare. Quindi per riguardo la gestione dei grafi utilizzeremo JgraphT, che è una libreria Java. Attenzione a non confonderla con Jgraph.com, che è un'altra cosa, è una libreria invece per la visualizzazione di oggetti grafici, quindi il sito di riferimento è JgraphT.org. E quindi è una libreria Java che permette di lavorare con i grafi perché fornisce già degli oggetti di tipo, di grafi come oggetti semplici da utilizzare e implementa anche gli algoritmi principali, quelli che ci interessano perlomeno. Come tutte le librerie in Java, per utilizzarle è necessario semplicemente includere il punto jar nel proprio progetto. Quindi andando sul sito del corso, nella sezione materiale trovate il link a JgraphT, JgraphT.org, dovrei già averlo aperto. Questa è la pagina principale della libreria. Potete sia scaricare, potete guardare il Javadoc e sia scaricare lo zip o il tar con le varie librerie. Tra l'altro c'è anche il progetto su GitHub, quindi il progetto è open source. Potete sia andare a vedere come è stata implementata, sia contribuire, che nel caso in cui ad esempio ci fosse un algoritmo non implementato potreste fare il fork del progetto e implementarlo voi, se siete interessati. In particolare quello che vi consiglio di fare è di studiare un pochino il Javadoc. Siccome utilizzeremo in modo estensivo questa libreria, è importante conoscere tutte le API che questa fornisce. Il Javadoc ha questo formato, si trova all'indirizzo JgraphT.org e Javadoc. Adesso torniamo alle slide per vedere la struttura dei package e poi vediamo più nel dettaglio ciascun package. Qual è la struttura di JgraphT? Abbiamo diversi package. Nel package principale JgraphT ci sono le interfacce ed alcune classi. L'interfacce per i principali tipi di grafo e alcune classi di utilità, utility, tipo la classe Graphs. Poi c'è il package ALG che fornisce l'implementazione di alcuni algoritmi. ALG utility invece sono le utility legate all'implementazione degli algoritmi. Punto demo fornisce dei programmi di esempio per iniziare ad utilizzare JgraphT. Generate permette di generare delle tipologie di grafo, ad esempio specificando la densità, eccetera. Non utilizzeremo tipicamente generate perché di solito prenderemo le informazioni dal database come abbiamo sempre fatto. Quindi caricheremo le informazioni, la struttura esempio della metropolitana di una qualche città, dal database la caricheremo in memoria, creeremo vari collegamenti quindi non abbiamo bisogno di generare il grafo. Il package.graph fornisce l'implementazione delle interfacce definite in JgraphT. Quindi fornisce le implementazioni principali. E il package traverse infine ha l'implementazione degli algoritmi di attraversamento. Allora, come tutto in Java, anche questa libreria è stata creata sul principio dell'ereditarietà. Quindi cercare di definire una struttura gerarchica tra le classi in modo tale che alla radice di questa struttura gerarchica si definiscano gli oggetti con le proprietà comuni e poi via via ci siano delle implementazioni concrete, più specifiche per la tipologia. L'interfaccia di tutti i grafi è GraphVE. Vediamo che è abbastanza comoda come definizione perché ci troviamo subito al nostro agio avendo visto che la definizione di un grafo non è nient'altro prima nella teoria abbiamo visto che la definizione di un grafo non è nient'altro che una coppia di due insiemi, l'insieme dei vertici e l'insieme degli archi. In questa interfaccia il grafo è proprio definito così, utilizzando i generics come una coppia di vertici e archi. Cosa sono i vertici? È un qualsiasi tipo, una qualsiasi tipologia di oggetto, sia oggetti di base, come potrebbero essere integer e string, sia oggetti da noi definiti. Non importa, tanto basta sfruttare i generics, quindi specificare la tipologia di oggetto che andremo ad inserire e il tutto funzionerà. Quali sono invece i tipi di arco di base? Sono il default edge e il default weighted edge. Quindi il default edge identifica l'arco non pesato e il default weighted edge identifica l'arco pesato. L'informazione sull'orientamento, quindi se il grafo è diretto o meno, se è orientato o meno, non viene data dall'arco, non viene data dal tipo di grafo. Quindi selezioneremo il tipo di grafo che ci interessa e poi a quel punto inseriremo degli archi. La scelta tra un arco pesato e un arco non pesato. Le interfacce principali di interesse riguardano le tre tipologie di grafi. Quindi abbiamo grafi non direzionati, grafi direzionati e grafi pesati. Poi ci saranno diverse combinazioni nelle implementazioni, però le interfacce sono queste tre. Continuiamo dalle slide. Allora, come dicevo, tutto deriva dell'interfaccia graph. Nell'interfaccia graph abbiamo alcuni metodi, abbiamo la definizione della signature di vari metodi di interesse, come esempio aggiungi tutti gli archi, aggiungi arco, contiene un arco, aggiungi vertici, rimuovi un arco, rimuovi un vertice. Comunque sono i metodi comuni a tutte le implementazioni dei grafi. Poi, a seconda che sia direzionato o meno, abbiamo dei metodi specifici, però come vedete sono pochi rispetto a quelli comuni. Quindi ha senso sfruttare sempre la gerarchia in Java per riutilizzare, per evitare di copiare il codice più volte. Quindi questa interfaccia che estende l'interfaccia graph, l'interfaccia direct graph che estende l'interfaccia graph, ad esempio definisce soltanto l'in degree out degree, perché quello che differenzia un grafo diretto da un grafo semplice è il fatto che gli archi abbiano una direzione. Che conseguenza ha questo? Ha la conseguenza che, come abbiamo visto, oltre al degree si parla di in degree, quindi il grado entrante, il grado uscente, gli archi entranti e gli archi uscenti. Nel caso di un grafo pesato abbiamo un altro metodo, abbiamo un metodo in più aggiuntivo, che è set edge weight. Set edge weight permette di aggiungere, di settare il peso su un arco. Quindi prima aggiungiamo l'arco, poi su quell'arco che abbiamo aggiunto settiamo il peso. Ovviamente però questo richiede di utilizzare, se utilizziamo un weighted graph, dobbiamo utilizzare, come abbiamo visto prima, il default weighted edge. In ultimo, se abbiamo un grafo non diretto, abbiamo la funzione degree of, che ci permette di avere l'informazione su qual è il grado di un grafo non direzionato, che è semplicemente la somma degli archi incidenti su quel nodo. Quali sono quindi le principali classi, qual è la struttura gerarchica? Abbiamo visto che ci sono delle interfacce, interfaccia graph, poi tre interfacce più specializzate, e poi abbiamo tutto un insieme di classi che implementano le diverse combinazioni. Piuttosto che utilizzare questa struttura, meglio utilizzare quest'altra, in quest'altra variante, che credo che abbia creato il professor Fulvio Corno, e è molto utile perché in tre passi ci permette di selezionare, in tre semplici passi ci permette di selezionare sempre l'implementazione più corretta. Quindi quando vi è dato un problema, per prima cosa cercate di capire qual è il tipo di grafo che volete utilizzare. Una volta capito, basta aprire le slide e in tre passi saprete qual è l'implementazione che vi interessa. Il primo passo in pratica è, bisogna scegliere se è direzionato o non direzionato. Poi il secondo passo è se è pesato o non pesato. Quindi se siamo interessati in un non direzionato, quindi undirected, guardiamo la metà di sinistra. Poi a seconda che siamo intenzionati in uno pesato o non pesato, quindi stiamo guardando la metà di sinistra rispetto a questa linea immaginaria, poi guardiamo a sua volta la metà di sinistra e la metà di destra, che siamo interessati in uno non pesato o pesato. In ultimo selezioniamo la riga, quindi prima abbiamo selezionato le colonne, adesso selezioniamo la riga in base all'implementazione. Vogliamo un grafo semplice, quindi con al più un solo arco che collega una coppia di vertici. Vogliamo un grafo o un multigrafo, quindi con più archi che collegano la stessa coppia di vertici. Uno pseudografo, quindi oltre a essere multigrafo ha anche i cappi, i loop. E in ultimo non simple, che significa permette i loop ma non permette i multiarchi. Quindi è una versione differente della pseudografica. E' utile utilizzare questo schemino anche perché i nomi delle classi non sono sempre coerenti. E quindi utilizzare questo schema è sempre la cosa migliore. Ritorniamo un attimo ai javadoc. Allora, vediamo, abbiamo detto che tutto quello che ci interessa si trova nella classe, nel package jgraph.t. Per lo più nel package jgraph.t. Qui abbiamo delle interfacce, directed, undirected, weighted graph, che sono quelle che abbiamo visto prima. Ma quello che secondo me è più interessante di tutti è l'implementazione graphs. E' la classe graphs. La classe graphs non implementa alcuna interfaccia, è semplicemente una classe di utilità. Quindi definisce una serie di metodi statici, quindi metodi che per cui non è necessario istanziare, creare una più specifica istanza di quella classe, ma vanno chiamati sulla classe, quindi da scrivere graphs.ilnome del metodo. Una serie di metodi statici che permettono di risolvere alcune operazioni comuni, che faremo un sacco di volte, per cui sarebbe comunque sempre possibile risolverle senza questa classe. Ma questa classe ci permette di risparmiare sulla scrittura del codice, ed è una cosa che a noi piace molto, perché ogni volta che possiamo non scrivere il codice siamo contenti. In particolare, cosa ci permette di fare? Un qualcosa che è molto conveniente è aggiungere tutti i vertici in un colpo solo, perché altrimenti dovrei fare ogni volta un ciclo for, comunque utilizzare un qualche tipo di ciclo, oppure iterativamente aggiungere uno a uno i vertici utilizzando add vertex. Se invece ho una lista, posso passarla al metodo addAllVertices, e questo metodo prende il grafo, quindi bisogna dirgli qual è il grafo di destinazione, e qual è la collezione in cui sono salvati i vari vertici. Per date queste due informazioni, lui in automatico aggiunge tutti questi vertici al grafo. Vi consiglio di studiarveli, di cercare di capirli un po' tutti, anche se poi quelli che andremo a utilizzare sono pochi, ma è importante conoscerli perché, come vi ripeto, vi permettono di risparmiare un sacco di tempo, quindi se li conoscete potete sfruttarli e scrivermi uno codice. Un altro tipo di metodo interessante, ad esempio, è Get Opposite Vertex, ossia dato un grafo e dato un vertice, e un arco ci dice qual è il vertice opposto a quello che io conosco. Perché ricordatevi sempre che gli algoritmi, comunque tutti quegli algoritmi che andiamo a sviluppare, sono ciechi, hanno una visibilità locale, non hanno una visibilità globale del grafo, ossia se il grafo è in 2D noi lo possiamo visualizzare molto semplicemente, però l'algoritmo no. E quindi dobbiamo ogni volta, dato un nodo, sapere, prendere gli archi vicini, e poi dagli archi vicini andare ai nodi vicini, eccetera, i nodi adiacenti, e così via. Quindi se abbiamo dei metodi per breccizzare tutto questo, li utilizziamo. Un altro è NeighborListOf. Dato un grafo e dato un vertice, voglio sapere quali sono i vertici adiacenti. Posso farlo anche senza questo metodo. Di nuovo, se lo utilizzo, è molto più semplice. Poi abbiamo, nel caso di graffi orientati, quindi Directed Graph, ci sono due metodi interessanti, PredecessorList e SuccessorList. Adesso non trovo, comunque è prima. Predecessor e Successor. Danno, nel caso di un grafo orientato, c'è il concetto di precedente e successivo. Dato un vertice, i vertici successivi sono quelli che hanno archi, sono quelli che sono collegati con archi uscenti. Quindi posso sfruttare tutti questi metodi per la mia implementazione. Come faccio a creare un grafo utilizzando jgraph-t? Per prima cosa, come ho detto che è un grafo, devo definire, devo scegliere la tipologia di grafo. Quindi ho scelto il mio problema, ho pensato che devo utilizzare, ad esempio, un grafo semplice, non orientato, e non pesato, quindi scelgo la classe corretta. Poi utilizzo il metodo addVertex e aggiungo ad uno uno i vertici, oppure utilizzo la classe graphs e le aggiungo tutti quanti in un colpo solo. E poi aggiungo i vari archi. Utilizzo quindi il metodo addEdge. È tutto molto semplice. Devo semplicemente definire un arco, definisco un arco come una coppia di vertici. Qui però, attenzione, cerchiamo di capire bene come funziona. Abbiamo insistito tanto sul metodo hashCodeEquals e c'era un motivo. E il motivo è che se utilizziamo questa libreria, questa libreria al suo interno utilizza in modo estensivo hashCodeEquals. Sia perché, per due motivi. Il primo è perché quando aggiungiamo un vertice, ad esempio, un oggetto, se fosse una metropolitana aggiungiamo il vertice stazione, potrei creare, potrei direttamente fare addVertex, new stazione A, se la stazione si chiama A. E quando aggiungo un arco, potrei fare, crea un arco tra new stazione A e new stazione B, senza dovermi salvare in qualche lista, in modo temporaneo, le stazioni che ho già creato. Come fa lui a creare questo arco? Va a cercare se i vertici di sorgente destinazione che ho fornito esistono nel grafo. Come fa a sapere se esistono? Utilizza il suo interno equals. Quindi noi sappiamo che equals è già definito per i tipi di base. Se non è un tipo di base, dobbiamo ridefinirlo secondo la nostra semantica. Quindi tutti gli archi, tutti i nodi, come dicevo prima, sono etichettati, hanno bisogno di un identificativo univoco, sul quale poi andiamo a implementare hash code equals. Quindi uno dei motivi per cui jgraph.t utilizza hash code equals è appunto questo, perché quando andiamo ad aggiungere un arco va a cercare se esiste il vertice che vogliamo collegare. Il secondo motivo è che al suo interno per dell'ottimizzazione utilizza degli hash set, hash map, eccetera, e quindi di nuovo va a utilizzare hash code equals. vi ricordo ma ne ho già parlato a lungo nelle scorse lezioni che hash code e equals vanno definiti su tipi non mutabili, immutabili, perché se lo definisco su un intero e poi questo intero lo cambio nel tempo non va bene perché cambia la semantica di hash code. Hash code deve essere, deve dare lo stesso risultato durante tutta la vita dell'oggetto, non può cambiare. Se questo non è verificato ci sono tutta una serie di errori che sono difficili da scoprire soprattutto poi nell'ambito dei grafici quindi cerchiamo di creare, di fare molta attenzione agli oggetti che inseriamo a pensare al concetto di uguaglianza quando gli oggetti sono uguali, quando sono differenti, se è necessario definire equals, eccetera. Quindi prima di cosa aggiungiamo, prima di tutto aggiungiamo un arco aggiungiamo i vertici, aggiungiamo un arco ci sono due metodi per aggiungere tre metodi dipende se vogliamo aggiungere un arco pesato o no se non è pesato è molto semplice basta usare add edge se invece è pesato abbiamo due possibilità possiamo usare add edge e specificare il peso no, scusate è un pochino diverso provo a rispiegarlo allora ci sono due metodi per aggiungere un arco il primo è add edge entrambi si chiamano add edge la differenza è la signature quindi i parametri che ricevono nel primo passiamo semplicemente due vertici i due vertici tra cui vogliamo generare l'arco e questo metodo ci ritorna l'arco creato quindi lui al suo interno chiama il costruttore dell'arco si occupa di aggiungere quest'arco tra i due vertici e poi ritorna l'istanza di arco creata e e su questa e poi possiamo andare a settare il peso quindi utilizziamo il metodo set edge weight passandogli l'arco e il peso in alternativa invece possiamo utilizzare un altro metodo che è add edge che riceve tre parametri che sono il vertice sorgente il vertice di destinazione e l'arco ma quest'arco l'abbiamo già creato l'abbiamo creato noi quindi possiamo scegliere se farlo creare alla libreria oppure se crearlo noi però il peso va comunque settato sempre utilizzando questo metodo set edge weight in cui dobbiamo passare l'arco e il peso l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la seguente tutti questi metodi sono metodi che vanno chiamati dall'istanza del grafo che abbiamo creato perché il vertice e l'arco sono semplicemente sono delle classi semplici non contengono informazioni all'interno tutte le informazioni sono contenute nell'istanza del grafo creata quindi se chiameremo il grafo il nostro simple graph lo chiameremo grafo dovremmo fare grafo.add edge grafo.add vertex grafo.set edge weight ed è un pochino controintuitivo perché noi vorremmo chiamare questo metodo sull'arco noi invece dobbiamo chiamarlo sul grafo perché è il grafo che contiene poi le informazioni per debugging per fare debugging è anche possibile stampare la rappresentazione corrente del grafo e possiamo utilizzare il metodo toString perché il metodo toString è stato ridefinito in jgraph.t e otterremo una visualizzazione molto simile a quella che abbiamo già visto sia con la lista dei vertici e la lista delle coppie di vertici che costituiscono vari archi warning lo ripeto gli archi e i vertici devono correttamente implementare i qualsiasi code questo è particolarmente gray sempre se utilizziamo sempre sui sui vertici riguardo gli archi dipende dipende da cosa facciamo dipende se effettivamente andiamo a sfruttare questo il concetto di uguaglianza però di sicuro per i vertici è sempre importante andare a definire equals e hash code vediamo un esempio anche se poi lo faremo faremo un paio di esempi in java nella prossima ora vediamo un esempio di come si può costruire un grafo in questo caso sono interessato a un grafo non direzionato un direct graph quindi definisco una variabile sulla base dell'interfaccia e poi creo un nuovo simple graph simple graph che è la versione più semplice di grafo specifico tra il segno di minore e maggiore i due generics ossia il tipo di vertice e il tipo di arco il tipo di vertice in questo caso è una stringa il tipo di arco è un default edge default edge abbiamo detto che i tipi di arco sono due sono default edge default weighted edge nulla ci vieta di estendere queste classi ma se non è necessario estendere se non abbiamo necessità di aggiungere delle informazioni possiamo sempre sfruttare queste due quindi add vertex add edge cosa facciamo prima di tutto abbiamo scelto abbiamo creato una nuova istanza del grafo poi aggiungiamo i vari vertici a, b e c a questo punto creiamo i collegamenti quindi aggiungiamo l'arco tra a e b e tra a e c come abbiamo detto questo metodo entrambi i metodi add edge ci ritorneranno l'istanza dell'arco creato quindi un'istanza di default edge ma lo possiamo benissimo migliorare perché se non andiamo a settare il peso questo qui è un grafo non pesato non ha non ha senso utilizzarla a meno che non abbiamo bisogno per altri motivi ancora da notare tra parentesi quando creiamo un grafo bisogna specificare il tipo della classe dell'arco che andiamo a utilizzare quindi non basta specificare i generics ma dobbiamo sempre scrivere tra parentesi default edge punto class default weighted edge punto class oppure new arco punto class bisogna essere consistenti lo stesso che mettiamo nei generics lo mettiamo anche tra parentesi però è necessario per il funzionamento della libreria perché al suo interno utilizza un pattern che richiede questo tipo di informazione poi in questo caso una cosa che posso fare ad esempio è ottenere tramite il metodo vertex set la lista dei vertici letterale su questa lista utilizzo un ciclofor avanzato ogni vertice è una stringa quindi utilizzo questo ciclofor per letterale sulla lista dei vertici stampo il vertice per ogni vertice mi chiedo qual è la lista degli archi incidenti su quel vertice come faccio utilizzo il metodo edges of ossia gli archi ovviamente lo chiamo sempre sul grafo quindi mi chiedo quali sono per questo grafo gli archi incidenti su questo vertice s s è il vertice su cui sto iterando perché sto iterando su vertex set quindi sul set dei vertici è un set perché ogni vertice deve essere differente non posso avere due vertici con lo stesso significato con lo stesso significativo all'interno di un grafo perché se inserisco il vertice 1 1 deve essere 1 non ce ne può essere un altro perché quando poi inserisco un arco dico un arco tra 1 e 2 quindi non ci possono essere due vertici che si chiamano 1 a questo punto stampo il degree del grafo per quel particolare vertice chiamando sempre graph.degree of s quindi ricordatevi che tutte le funzioni si chiamano sul grafo e poi si passano le informazioni necessarie quindi arco e vertice come parametri e posso poi sfruttare la funzione statica il metodo statico definito in graphs per ottenere il vertice opposto a quello considerato questo ci permette come vedremo successivamente di risparmiare qualche linea di codice quindi passiamo graphs è un metodo statico quindi non ha la conoscenza su qual è il grafo su cui stiamo lavorando per questo dobbiamo sempre passarlo come parametro quindi passiamo come parametro a questo metodo statico che è opposite vertex il grafo l'edge ossia l'arco che stiamo considerando e il vertice considerato se esempio s era a e passiamo l'arco a b get opposite vertex mi restituirà b il vertice opposto ad a per l'arco a b questo qui è un esempio un pochino più complesso che poi magari proviamo a implementare quali sono i metodi più importanti abbiamo visto vertex set ci restituisce un set di vertici contains vertex ci dice se il grafo contiene già questo vertice contains edge la stessa cosa se contiene un arco tra questi due vertici edges over restituisce i vertici incidenti gli archi incidenti su un particolare vertice get all edges è la versione simile a vertex set vertex set restituiva tutti i vertici all edges restituisce tutti gli archi poi dato un arco è possibile sapere qual è il vertice sorgente qual è il vertice destinazione e poi dopo è possibile anche sapere qual è il peso per quello specifico arco la classe graphs come abbiamo detto definisce alcuni metodi statici di utilità in particolare abbiamo add edge il metodo add edge permette di definire semplicemente di aggiungere semplicemente un nuovo arco specificando il grafo il vertice di partenza il vertice di destinazione e il suo peso oppure add edge with vertices permette di specificare per quel grafo di aggiungere su quel grafo un arco con un vertice di destinazione e un vertice sorgente diciamo che il secondo non è particolarmente utile il primo sì perché ci permette di evitare di dover settare il peso con due istruzioni quando utilizziamo una sola secondo me è molto più interessante il metodo add all vertices che permette di invece partire da una lista e inserire tutti quei vertici all'interno del grafo e poi abbiamo delle funzioni interessanti per la navigazione tipo dammi la lista di tutti i vicini tutti i vertici adiacenti a quello considerato nel grafo dimmi qual è il vertice opposto a il vertice opposto a quello considerato per un particolare arco nel grafo dammi la lista di predecessori dammi la lista di successori per un grafo orientato dato un vertice questo che l'abbiamo già visto prima quindi fate sempre attenzione alla signature quindi questi metodi qua richiedono un grafo questi metodi questi due invece questi ultimi due richiedono un directed graph quindi applichiamoli soltanto se è possibile applicarli se avete domande su questa parte se non avete domande possiamo fare 10 minuti di pause e poi vedere un paio di esercizi in java un paio di esercizi